Ci troviamo alla conferenza annuale dei presidenti CAB della comunità d'azione Brennero. In questo momento abbiamo cinque lotti costruttivi attivi su tutto il corridoio, tre lotti austriaci e due lotti italiani. Sono tutti nel pieno delle proprie attività. Heute wurde Bilanz gezogen über zwei Jahre Arbeitsgemeinschaft Brennerbahn. Eine erfreuliche Bilanz. Es konnte die Thematik nicht nur normal weiter diskutiert werden, trotz Covid, sondern auch in verschiedenen Stellen, unter anderem in Brüssel, die Thematik aufgezeigt und Lösungen in die Wege geleitet werden. Dopo due anni di presidenza, dell'Alto Adige della comunità azione Brennero, oggi si chiude con il passaggio della presidenza al Nord Tirolo, al quale assessore auguro buon lavoro. Vogliamo evitare che le persone debbano utilizzare le bacchine, i camion, per passare su questo importante corridoio del Brennero e invece utilizzare il treno come mezzo principale per potersi spostare. di B Grazie a tutti.